Il 2020 che da poco ci siamo lasciati alle spalle è stato un anno complicato. Lo shock del lockdown di marzo, la paura per un nemico invisibile, i lutti, ci hanno fatto toccare con mano i nostri limiti e hanno messo a nudo le debolezze strutturali dei nostri territori. Le difficoltà e i problemi determinati dalla pandemia ci hanno costretto a reinventare le nostre attività, ricercando nuove basi su cui costruire nuove certezze e nuovi obiettivi. Anche le modalità di erogazione dei servizi hanno dovuto essere riprogrammate con uno sforzo organizzativo ed economico non indifferente. Ma il 2020 è stato anche l'anno in cui abbiamo imparato, volenti o nolenti, a utilizzare nuovi strumenti per lavorare e per collaborare e penso che questo aspetto abbia rappresentato una novità importante e positiva. Le videoconferenze non potranno mai sostituire completamente le riunioni in presenza, ma sono state indubbiamente uno strumento che ha consentito ai rappresentanti dei comuni della nostra città metropolitana di tenersi in contatto e di collaborare col nuovo slancio per la condivisione di tematiche importanti per il futuro delle nostre zone omogenee. Penso ad esempio al percorso partecipativo che porterà alla stesura del piano strategico metropolitano 2021-2023. Uno strumento importantissimo per i nostri territori, nel quale le peculiarità di ogni zona costituiscono le basi per la costruzione di una città metropolitana più vicina ai cittadini e in grado di essere realmente motore di rilancio e di sviluppo dei nostri territori. Il 2021 riparte da qui, dalle nostre debolezze ma anche dalla capacità di adattamento e dalla consapevolezza che le nostre comunità torneranno a crescere e a svilupparsi solo se sapranno valorizzare i propri punti di forza in un contesto di area vasta. Da questo punto di vista la notizia che 169 comuni abbiano aderito al bando della città metropolitana per la concessione di contributi a fronte di progetti di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade provinciali impegnandosi a cofinanziarne la realizzazione è certamente di buon auspicio. I comuni a zona omogenea 7 hanno presentato progetti per oltre 5 milioni e mezzo di euro, più di ogni altra zona e al termine del lavoro istruttorio i comuni Ilemi e Varisella, Matti e Germagnano si sono aggiudicati i contributi. È importante che questo patrimonio rappresentato dalle proposte progettuali e dalla rinnovata capacità ad agire in ambito sovracomunale non vada disperso e da questo punto di vista sarà importante che il consiglio metropolitano nel raccogliere questo segnale prosegua concretamente sulla strada intrapresa nell'ultima parte del 2020. D'altra parte la viabilità e più in generale il potenziamento del sistema di mobilità su gomma e su rotaia rappresentano un volano di sviluppo basilare e necessario per consentire la piena valorizzazione dei nostri territori a partire da quelli montani e con questo auspicio che come sindaco di San Maurizio Canavese e portavoce della zona omogenea 7, oltre che personalmente, auguro di cuore ai cittadini e alle cittadine della città metropolitana di Torino un 2021 ricco di soddisfazioni e soprattutto di opportunità da cogliere.